allora vogliamo fare un attimo due salutini ma come no grazie io voglio salutare un carissimo amico e artista Michele Libero e poi un altro è un attore doveva stare stasera qui con noi alla febbre Michele Guarino poi voglio salutare tutta la famiglia Amato e la macelleria all'ospizio di Barra per il mio marito Enzo e anche per me mi associo a tutti i tuoi saluti grazie io approfitto per mandare due salutoni alla famiglia Sferragatta da Maddaloni ciao signora Giannina un bacione forte forte da parte mia non mi sono dimenticato c'è la telefonata non mi sono dimenticato allora diciamo subito pronto buonasera con chi parliamo e da dove chiami? parliamo e da dove chiami? pronto? pronto siamo pronti ciao buonasera pronto buonasera ciao chi sei? buonasera ciao Luca parliamo a Mario signora Mary va bene grazie grazie cortesemente però sì cortesemente non ci cercate i soldi però cortesemente no 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 Mario non ti preoccupare cortesemente io vorrei parlare un po' con il mio papà Pino sì Pino Pino e gli studi poi salirei sul palco e ti facciamo parlare con lui va bene? dici cosa gli vuoi dire? eh lo so che vuoi parlare adesso allora un secondo solo dai Pino vieni fai presto vuoi richiamare un attimo allora che gli vuoi dire? fai presto presto vieni che gli vuoi dire? niente comunque una bella trasmissione sì e lui lo sa lui lo sa lui lo sa uno strappo alla regola lo sai? eccolo qua va bene? buonasera ciao Luca eh signor Pino buonasera come si va? siamo buone siamo buone che mi arrivi importante eh va buone va davvero ti volevo vedere? ti volevo vedere? ti volevo vedere? va bene va bene non ti preoccupare ciao ciao ok ciao Pino a dopo allora l'amico Pino salita dopo sul palco sì perché noi abbiamo una bella scaletta poi ci sono ancora altri ospiti che stasera ci siamo qui da trovare sì sì personaggio che che è molto bravo come cantante come autore a me mi ha dato una bellissima canzone Mary ma veramente mi ha dato due o tre mi ne sembra però una è troppo ma una la canti? eh lo sai la voglio cantare questa sera da titolo solo tu Mary infatti quella che piace a me piace a te piace pure a me allora allora dopo la canti sì allora vediamo un'altra bella prendiamo un'altra chiamata e poi canti la canzone allora nel frattempo possono preparare la canzone sul tu poi dopo la cantiamo noi diciamo subito pronto? pronto buonasera pronto buonasera con chi parliamo e da dove chiami? ciao Mario ciao bella sono la figlia di Giuseppina ciao ciao bella come stai? tutto bene tutto bene un palco grazie 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 ricambio per te e per tutta la tua famiglia ciao Mary ciao sei Marisa? ciao sei Marisa? sì sono Marisa Marisa un bacione da parte nostra ti senti Mario vorrei ascoltare una canzone da te va benissimo la prossima che verrà è anche dedicata per te una bellissima canzone vorrei ascoltare Mario perché le tue sono tutte belle questa qua è anche bella non ti preoccupare te lo dico io che è bella perché chi l'ha scritta ci ha messo la mansione ti fatto mia mamma ok grazie ciao Marisa un bacione buonasera buonasera ciao buonasera Pina tutto bene? sì tutto bene e te? tutto bene a me no perché? che è successo? perché si è stato recaduto dalla febbre un'altra volta ai 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 vabbè adesso stai bene dai eh niente non mi sono fatta son di più non ti preoccupare che settimana ci sentiamo domani dai dai in settimana ci sentiamo va bene ok una bellissima canzone va bene dopo un'altra bella canzone per te va bene ciao va bene un bacione per te saluto a tutti grazie un bacione per te per tutta la tua famiglia per i tuoi figli Antonio Mario ciao 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 un bacione da parte nostra Meri un bacio ciao facciamo questa bella famiglia da casa Pesina Meri